Amici, a volte noi batteristi non siamo accorti, attenti e logici su come proporre un'esecuzione timbricamente valida sul piatto. Poniamo di avere in un set due ride o due piatti che comunque sono adibiti entrambi all'accompagnamento, anche se fosse un crash ride per esempio. Ecco, e noi questi ride suoniamo cambiando l'uno o l'altro quando ci gira a noi, aiuto, non funziona, dobbiamo rispettare il chorus armonico del brano che stiamo suonando. Pogniamo sì a un giro di blues, sono 12 misure, ci sarà una parte tematica che 99 volte su 100 sarà suonata due volte. Ecco, allora, quantomeno i due temi, cioè i due giri di blues iniziali, li accompagneremo con un suono di piatto, non cambiando a metà strada. Ancora di più questa disciplina timbrica e logica e anche estetico-musicale va mantenuta quando si accompagna un solista. Accompagniamo un solista, quindi uno strumento ben preciso, adottiamo un suono di ride che sia sempre quello per tutto il percorso solistico di quello strumento. Se il giro armonico è più articolato, come per esempio un rhythm changes, che non sono 12 misure ma sono 32, quindi A, A, B, A, peggio ancora, non cambiamo ride all'interno di queste quattro sezioni quando ci va, ma quando mai? Sono 32 misure, teniamo un suono di piatto che sia come minimo lo stesso per tutte le 32 misure, ma vale lo stesso discorso di prima. Se accompagniamo un solista manteniamo lo stesso suono di piatto fin tanto che quel solista sia stufato di fare il solo. Non ha senso proporre un cambio timbrico di un piatto e un altro autogestito da noi senza rispettare quella che è una delle tantissime regole non scritte che fanno parte di un'estetica musicale, di una logica gezzistica che viene tramandata da decenni. Quindi quella regola del mantenere il suono di un piatto stabile per tutto il chorus armonico e per i vari chorus armonici che corrispondono a un determinato solista mi sembra la cosa più ovvia del mondo. Sono tutte sfumature e dettagli e furbizie, mettiamola così, che fanno sì che un batterista sia più apprezzato di un altro, al di là che sappia fare i rulli veloci o meno. Cioè, la cura di questi dettagli è quella che fa piacere a chi suona con noi. Ecco, ciao. Tutti i video io li finisco così. Ecco, ciao. Ecco, ciao.